cari amici ben ritrovati vediamo insieme anche per oggi le condizioni meteoclimatiche nuovo arrivo di aria più fredda e secca per la giornata odierna con tempo in miglioramento anche al sud ed in adriatico anche se della nuvolosità irregolare sarà ancora presente contemporaneamente da ovest si farà strada un fronte caldo che proprio nella giornata di domani giovedì 20 dicembre farà da padrone al nord con molte nubi e qualche debole precipitazione nevosa sino a basse quote ma vediamo cosa accadrà oggi sulla nostra provincia previsti piovaschi alternati a schierite le temperature lieve calo si porteranno 14 gradi diurni con minime di 11 nella notte 20 forti soffieranno da nord ovest ed il mare nello stretto di messina sarà molto mosso sul versante tirenico brevi rovesci e schierite le temperature si porteranno ai 14 gradi diurni e minime di 12 nella notte venti forti soffieranno da nord ovest e da nord nord ovest di moderata intensità nella sera ed il martireno sarà molto mosso sul versante ionico pioggia e schierite le temperature sotto le medie climatiche del periodo si porteranno ad 8 gradi le minime con massime di 12 venti forti soffieranno da nord nord ovest ed il marionio sarà mosso nella giornata di giovedì 20 dicembre al sud torna il bel tempo su tutte le regioni special mattino con clima un po freddo nelle valli interne nel pomeriggio è previsto un passaggio di velature o nubi alte ma con sole sempre visibile ed anche sulla nostra provincia nuvolosità scarsa le temperature si porteranno ai 15 gradi le massime con minime di 10 venti moderati soffieranno da nord nord ovest ed i saranno molto mosso il tirreno mosso lo ionio grazie per averci seguito appuntamento a domani e e e e e e